Qualcuno ha visto Cam? Ma che fine hai fatto? Guarda, se quando ti serve... Cam! Ma dove l'hai trovato? Lui ha trovato me. Dove hai imparato il parkour? Lo sai, queste sono cose pericolose. Ti fai male se non sai quello che fai. Cerca di stare al passo. La vuoi? La paga o no? Devo guadagnare più soldi. C'è qualcuno che si è allenato? Devi sempre cercare di superare ciò che sai di poter fare. Non resti bloccato. E voi cosa fate? Tutto il possibile per non essere presi. Non siamo gente a caccia del brivido, pronta a qualsiasi follia. Facciamo le nostre ricerche, pianifichiamo. È un lavoro di squadra. Volevi entrare? Indovina. Sei dentro. Qual è il piano di fuga? Ti sei presa a gioco di me. Tu volevi entrare, Kama. Se troverò una via d'uscita, verrai con me. Oggi ho per voi qualche curiosità sul reboot dei Fantastici Quattro. Prima di scegliere Kate Mara, la produzione ha considerato per il ruolo di Susan Storm la bellissima Margot Robbie, che avrete visto in The Wolf of Wall Street of Oculus. Invece, il premio Oscar, Eddie Redmayne, era in gara per il ruolo di Dottor Doom, che però alla fine è andato a Toby Cable. Poi, nel teaser trailer del film, è presente un easter egg abbastanza particolare. Quando su Storm lavora il computer, in basso a sinistra c'è un indirizzo IP che, se è inserito nel browser, vi permette di accedere direttamente a tutte le informazioni su Latveria, la patria di Dottor Doom. E l'indirizzo è 23.21.190.125. Provate, provate a vedere cosa succede. Grazie per aver scelto il nostro canale, noi ci rivediamo al prossimo video.